matilde brandi confessa cosa è cambiato nella sua vita lo fa attraverso una foto di instagram che commuove tutti lei è bellissima ci sono momenti in cui la vita cambia di getto e non ci possiamo fare assolutamente nulla qualche volta in meglio qualche volta in peggio cosa determina questo cambiamento però sicuramente gli eventi che a volte vengono programmati altre volte capitano per caso e bisogna sottostare alle leggi del mondo come cantava il caro e ormai defunto franco battiato ma oggi non parliamo di grandi artisti defunti bensì di qualcuno che ancora in vita e che ha postato una foto in cui ha svelato cosa le ha cambiato la vita parliamo della conduttrice e showgirl matilde brandi sempre uno splendore quando appare in tv o in uno scatto social soprattutto all'interno del suo profilo personale di instagram un account seguito da ben 491 mila persona un bel bottino che lei delizi come può e quando può nell'ultimo scatto ha confessato cosa è stato il suo vero cambiamento nella vita i follower non hanno potuto che apprezzare sia lo scatto sia quello che lei ha messo in atto pochi mesi fa proprio così la partecipazione al grande fratello vip l'ultimo andato in scena quest'anno è stato un vero e proprio cambiamento nella sua vita sia privata che professionale lo annuncia con una foto che commuove tutti i commenti non mancano di certo qualche utente scrive come poter dimenticare la prima parte del gf vip quando c'eri tu un vero spettacolo ma lo spettacolo è anche lei in foto che mostra le gambe e un toppino niente male sembra essere ringiovanita e lo mostra in tutta la sua bellezza solo scatti belli potremmo dire è canan altro dove dichiara apertamente che nella vita è tutta una questione di prospettive le sue dopo aver partecipato al grande fratello sono decisamente in continuo cambiamento a Grazie a tutti. Grazie a tutti.